Allora ragazzi, la merda che vi voglio proporre è quella che faccio vorrei sempre a teatro, ossia la mia casa internazionale di teatro. Vabbè, allora praticamente saremo ovviamente tutti quanti in centro, sarebbe che dovremmo stare tutti quanti con la mano destra, eccetera, ma siccome siamo tanti non ce la facciamo, quindi se non siamo tutti quanti in contatto, uniti, ci sarà una frase che sarà chi desiste dalla lotta, chi non dice mignotta, è vera, è vera. Poi, finita questa cosa, si tocca nei puli come sempre. Chi desiste dalla lotta, chi non dice mignotta. Adesso, allarghiamoci un pochino, prendiamoci tutti quanti il più possibile, sotto braccio, ci siamo uniti e facciamo certi pranzi. Sotto braccio, sotto braccio, sotto braccio. Siamo tutti quanti uniti? Uuuuuh! Da qua, da qua, da qua. Allora, non lo so. Siete pronti? Io ho una frase e poi tre volte è merda. Detta l'ultima volta è merda, si gira e si tocca il culo a tutti quanti. Allora, se ne carichi? Siete pronti? Sì! Facciamo un preambolo in questa serata di merda, con questo pubblico di merda, con questo freddo di merda, chi desiste dalla lotta, è merda, chi desiste dalla miliotta! Merda, merda, merda! Questa è la parte del mio preferito! Merda, merda, merda!